Come ottimizzi il tuo recupero dopo una partita per essere fisicamente e mentalmente pronto al 100% per la gara successiva? Ognuno ha una routine diversa. Io provo a rimanere attivo il giorno seguente, continuo a fare movimento, spesso faccio qualche tiro in campo o un po' di palestra. Per quanto riguarda la fisioterapia ci sono tante filosofie diverse. Abbiamo un grande team di preparatori atletici e fisioterapisti che si prendono cura di noi in maniera perfetta e fanno tante piccole cose che si spera facciano la differenza nella partita successiva. L'importante è essere costanti durante l'anno per riuscire a recuperare appieno da tutti gli sforzi a cui sottoponiamo il nostro corpo. Quali sono i segreti per avere una carriera quanto più lunga possibile? In realtà penso che la cosa più importante sia dormire. È uno degli aspetti del recupero più sottovalutati. Ovviamente si deve mangiare bene, dormire il più possibile e fare qualche trattamento per prendersi cura di botte e lividi che sono una cosa normale per tutti i giocatori. Con l'esperienza ognuno riesce a capire qual è la cosa migliore da fare per il proprio corpo durante la propria carriera. Con l'esperienza ognuno riesce a capire qual è la cosa migliore da fare per il proprio corpo per il proprio corpo per il proprio corpo.